bene sono riuscito ad andare avanti e scoprire come risolvere i bug perché ci sono dei bug che fermano domani magari giochiamo yugioh ok avete visto ancora un'altra volta si bugga non me lo prende faccio la richiesta a invito come se stacca attacca l'online e funziona ok si è buggato richiesta aiuto allora vediamo se funziona ok vedi allora ragazzi piccolo video che vi spiega come avete visto pochi secondi fa che non andava avanti nella missione o schiaccio il tasto menu qui c'è l'opzione ritirati ok raga oppure se non vi va avanti schiacciate sempre il tasto opzione tenete la freccetta in basso richiesta soccorso inviata non arriverà nessuno ma vi sbloccherà il bug della missione ok non c'è bisogno di fare cose strane uscire riavviare a me funziona facendo così ok allora quando la missione non va avanti come è successo poco tempo fa option se avete ritirati schiacciate il ritirati oppure qui in basso richiesta di soccorso adesso l'ho appena fatto schiacciate il tastino verso il basso facendo girare tutta la tenendo un po di secondi insomma dovete far fare tutto il giro al cursore giallo vi attiverà la missione bella ragazzi da marco drums games channel tutto tutorial bug fixed drums è tutto ciao ragazzi alla prossima ciao